Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, Sara Tommasi, atto terzo, perché questo è il terzo video che dedico alla bella Sara Tommasi, alla bella Sara Tommasi e i link, i link, i miei due precedenti video dedicati alla bella Sara Tommasi, li troverete nel riassunto a questo video, non dovrete fare nessuna fatica per vedere i primi atti della vicenda, il primo atto, il secondo atto e questo è il terzo atto, ma perché, ma perché, ma perché, nel riassunto a questo video vi allego anche la cronaca relativa a una brutta vicenda, cui ha dovuto sottostare la bella Sara Tommasi, una vicenda di droga, di violenza, tra l'altro una vicenda terribile subita mentre la stessa Sara Tommasi soffriva di depressione, orribile, leggerete, leggerete poi cari amici, leggerete, aprirete il link e leggerete tutta la cronaca, ma io con rispetto parlando cari amici gliel'avevo detto a Sara Tommasi che era fuori tempo massimo, era fuori tempo massimo, oggi come oggi una bella e brava ragazza non si mette sulla strada del porno per fare quattrini, perché ormai è una strada bruciata, perché se una bella e brava ragazza come Sara Tommasi pensa di fare quattrini facendo il porno, ha sbagliato tempo, doveva pensarci 20-30 anni fa, ma oggi su internet by night c'è di tutto e di più è gratis, se un qualsiasi ragazzo o anziano vuole va su web 2.0 e vede migliaia, 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 migliaia di video, di video, di video porno, dove fanno di tutto e di più, allora Sara Tommasi ma perché lei, lei non l'ha considerato il fatto che viviamo nel tempo del web 2.0, ci sono i miei video, i miei video Sara Tommasi, a me dispiace tanto per la violenza che lei ha subita, la droga, tra l'altro anche in un periodo di depressione e mi permetto di consigliarle cara, bella e brava Sara Tommasi di andare in una biblioteca comunale e di leggere questa opera storico-mitologica, la stirpe del serpente che si trova nel catalogo a Liberti per capire meglio come vanno le cose a questo mondo, ha scelto il momento sbagliato perché ogni azione ha il proprio tempo, il proprio tempo, lei poteva fare la scelta del porno ai tempi di ultimo tango a Parigi di Marlon Brando ma da ultimo tango a Parigi in poi è stata tutta in discesa o in salita la sala del porno perché milioni, 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 milioni di brave e belle ragazze fanno video porno video porno con bravi e bei ragazzi dove fanno di tutto e di più e sono gratuiti, sono gratuiti sul web 2.0, su internet by night, tutto gratuito per cui nessuno, specialmente in questi tempi di crisi va a tirar fuori i quattrini per vedere a pagamento quello che può vedere gratis. Vabbè io faccio tanti auguri alla bella e brava Sara Tommasi, mostro a lei e a tutti voi per l'ennesima volta cari amici quest'opera storico-mitologica che inquadra bene la nostra situazione, ok cari amici? Beh con tanti auguri a Sara Tommasi, grazie a tutti voi cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.